Come si è avuto un panel molto ricco che ci ha illustrato le best practices, i contributi delle donne nel mondo della ricerca dell'innovazione in sanità, quindi contributi sia delle università che dell'imprenditoria, del mondo delle start-up. Abbiamo parlato di robotica, di videogame, di realtà virtuale, tele-riabilitazione e anche di esperienze legate a tutto quello che è il mondo della proprietà intellettuale e brevetti da parte del studio Torta, quindi i nostri esperti legali. Contributo anche da parte della nostra presidente Daria Magidi che ha rafforzato l'impegno della nostra associazione per promuovere l'utilizzo delle tecnologie in tutti i campi di impatto sociale e in particolare nella sanità.